Sconquassato 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 Poi qualcuno farà qualcosa, magari si sposerà. Il Papa la mattina da San Pietro uscì tuttora solo tra la gente e in mezzo a San Lorenzo spara con le ali, sembrava proprio un angelo con gli occhiali. E un giorno credi, questa guerra finirà, ritornerà la pace e il burro abbonderà. Andremo a pranzo una domenica fuori, porta a Cinecittà, oggi Pietrale è morta, ma un bel giorno ritornerà e poi qualcuno farà qualcosa. Magari si sposerà. Magari si sposerà. Grazie. 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 Grazie.